Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corico Monpiemonte. Un saluto a tutti, io sono Marco Bongi, il presidente dell'Associazione Pro-Retinopatici e Ipovedenti. Oggi vorremmo dedicarci ad illustrare sinteticamente l'alfabeto Braille, ovvero il metodo di lettura e scrittura universalmente utilizzato dalle persone non vedenti in tutto il mondo. Questo metodo fu ideato dal grande educatore francese Louis Braille, nato nel 1809 e morto nel 1852. Non fu però il primo tentativo di far leggere e scrivere i non vedenti. Prima di lui si usava, come può essere intuitivo, riprodurre le lettere normali in rilievo. Braille invece ebbe un'idea diversa, cioè quella di costruire un codice molto semplificato, composto per ogni carattere al massimo da sei puntini allineati a due per due, un po' come, per fare un esempio molto semplice, la scatola delle sei uova che si compra solitamente al supermercato. E all'interno di questa casella si possono variamente combinare i sei puntini. In totale si riescono a raggiungere 64 combinazioni. Perché, qualcuno si potrebbe chiedere, si scelse un metodo come questo e non quello più intuitivo di riprodurre caratteri in rilievo? Semplicemente perché il senso del tatto funziona in modo diverso rispetto alla vista. Per identificare, ad esempio, una O riprodotta normalmente in rilievo, bisogna far girare il dito in rotondo per capire che è un cerchio, o la I una stanghetta, o la M con tutte le sue curve. Invece, questo metodo ideato da Louis Braille consente di leggere semplicemente facendo scorrere le dita da sinistra a destra sul foglio senza doversi spostare ulteriormente. Quindi una lettura molto più sciolta, molto più agile. Ovviamente il povero Louis Braille incontrò molte difficoltà ad imporre questo sistema che sembrava quasi un codice segreto, quindi visto con sospetto ai suoi tempi, come anche successivamente. Però il risultato finale era che in questo modo i non vedenti riuscivano a leggere quasi come le persone vedenti, mentre con i metodi precedenti la lettura era molto più difficoltosa. Per questo oggi, ancora oggi, che abbiamo la tecnologia, abbiamo le sintesi vocali, abbiamo tutta una serie di dispositivi moderni, l'alfabeto Braille rimane comunque sempre il modo di percezione dell'informazione più simile ad una vera e propria lettura oculare. Per questo ancora oggi, anche se purtroppo nel nostro paese è meno conosciuto, continuiamo a sostenere che vada sensibilizzata sia l'opinione pubblica, sia il mondo della scuola, il mondo degli educatori, perché venga trasmesso questo metodo che può essere anche sussidiario ad altri sistemi, però rimane comunque sempre indispensabile. Probabilmente molti ascoltatori avranno avuto occasione di vedere le impressioni Braille o sui tasti degli ascensori o sulle confezioni delle medicine. Ecco, magari utilizzando una semplice tabella di conversione, si potranno esercitare nel cercare di interpretare le scritte che vengono riportate. Quindi imparare l'alfabeto Braille, che è un alfabeto, non è una vera e propria lingua, quindi si può apprendere abbastanza semplicemente. Questo può diventare anche un gioco, può diventare anche un modo divertente per potersi mandare dei messaggi da uno all'altro. In realtà è anche la storia del Braille deriva anche da questo. Presso la nostra associazione è possibile approfondire questi argomenti, organizziamo dei corsi e siamo a disposizione per spiegare meglio la realtà dell'alfabeto Braille. Vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime trasmissioni. Grazie.